bella a tutti ragazzi siamo james gamestube io sono gabbyl pro in coppia di oggi faremo un episodio speciale con queste qua rischia il gusto non siamo già sta morendo ci siamo armati con bicchiere d'acqua riserva d'acqua e queste caramelle disgustose oggi facciamo una sfida con i punti assenza sarà quasi possibile questa sfida ma noi ci proveremo e iniziamo subito questa sfida che possiamo iniziare cioè possiamo continuare stiamo 10 a 8 per me da me la girella cacca viscida cacca viscida ah no è cacca la viscida ancora cacca la viscida non è possibile punto vale tre vabbè mamma mamma mia e no quello è uscito qua ma sei due per anno vi stavo dicendo comunque che queste sono anche senza l'utine vi consiglio di comprarle perché questi qua i sciocchi bens volevano fare un una catastrofe ovvero non volerla tutto il paese proprio porco schifo poi quindi sono anche made in italy prodotto confezionato in italia allora perché fenomeno youtube usa non mi so ma che cazzo no 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 il gioco sfida delle caramelle pazze che ho mandato pure io passiamo alla prossima e girare l'ordella la rosa fragola o ce la puzzolente no fa schifo ce la puzzolente scelgo questa che è più chiara mi sembra no ma sai che questa è più bada scura mamma Geronimo Stilton Geronimo hanno preso spunto da i cosi dei profumi di Geronimo Stilton c'avete presente uno il terzo libro mi pare mamma mia che schifo dammi passiamo alla prossima ascella mamma mia puzzolente peggio di quella di Simone non è buona alito fedito o limone ma già la fa schifo questa inizioni di sex che schifo mamma non ce la faccio eah comunque abbiamo preso 7.2 prima 7 7 vai giriamo tocca a te chi pensa la verde cacola non c'è più non c'è più la blu che cos'è mora o calzini sporchi vale 5 punti quindi la devi mangiare buona si mora si buonissimo buonissimo mora ma vedete a prestare i cazzo puntuali 2 yeee stiamo eehh quattordici sedici diciotto diciannove a quindici per me partiamo no cibo cibo per canio arancia alle 5 punti e poi abbiamo finito anche cibo per canio oh mio mio che puzza ma sicuramente i due se l'hai mangiata se l'hai mangiata ha detto anche che era buona sembra un biscotto al cioccolato addio non solo un cane vai gira verde non c'è più no è verde non c'è più manca arancione vabbè famo gialla rosa gialla per forza blu è uscita blu 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 l'ultimo anche blu schifo anche la mia ma questo è abbastanza altro no infatti il blu ragazzi gli sporchi ma chi è che mi riempie i messaggi non è una migliore parte e secondo me lo schifo più meno schifoso è schifo ok non la sta mangiando ok che buono no non è buono bene ne ho scoperto di te che vi da duro no te lo giuro te la faccio assaggiare? no quanto valeva? cinque 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 quel è ovvio allora 15 per Simon Simon e venti due per te no venti quattro per te ventiquattra è ventiquattra Scriveteci nei commenti anche se vuole dare un challenge di questo genere No Di questo genere No Ancora Lascia la puzzolente o fragola Fragola ti prego Io ancora Porca Eva Ancora Io che c'entro E' la terza volta e faccio un traspita di merda Pure l'acqua sta Adesso è già montata per un po' E' fragola Fragola Buonissimo fragola In passato 20 secondi Rosso per parte Amoroso Fa quello che mi ricapita scella puzzolente o C'è un po' certo o so fa schifo Mangia Aspetta Oggi mi ricapita frate Magari ti capita scella puzzolente E' morso Ok subito Senza rodella Giallo e rosso Scegli No famo Io mangio giallo e tu mangi rosso Per contrario Limone Se può capitare Alito ferri fatti meno Quanto vale il limone? 2 Lascia aperti 2 Sto a 28 Questo è 15 L'ultimo caramella Poi lo scegliamo e me la domanda Io? No Cioè io te la devo scegliere Dopo i miei vendi con me Non viene stato attento per la scuola scelta E tanto la mia maglietta Svegge Ok questa è la più l'ultima caramella La mia L'ultima caramella Poi la prossima Ce la dobbiamo mangiare per forza Giusto? Io scelgo il tetto Scegliamo E arrivo a 30 Io ho 15 Ok io sai quale ti scelgo? La rossa Io ti scelgo Oh vedi ce ne stanno due veri Vabbè Io ti scelgo la Vabbè 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 Ti scelgo Preferisci gialla o arancione? Gialla E' alitoferito gialla eh Aglio Aglio puro Io lo so Ma arancione è tipo per cagno Ok la sfida l'ho già vinta io Ma Simon Simon Non ci sta questa sconfitta Devo per forza trovare quella schifosa Ho trovato già arancione e limone Ora provo a trovare o mora O No O frutti di bosca O frutti di bosco O erba marcia Erba marcia Schifo Già E' un po' molto schifo Mangiala per forza Tu l'hai sputata Da Mamma mia Puoi sputarla E' schifo Puoi sputarla Mamma mia Mi c'è un castello all'apparezzo Ok ragazzi Per questo video è tutto Spero vi sia piaciuto Lasciate un bel pollicione in su Iscrivetevi al nostro canale Seguiteci sulla nostra pagina facebook E di instagram Scriveteci nei commenti Se volete altre challenge di questo tipo E noi ci vediamo Al prossimo video Buongiorno 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 Buongiorno